Finalmente ci siamo! Finalmente è arrivato il primo acquisto del Parma Calcio in questa sessione di mercato. Alleluia! È stata come un parto l'attesa di questo nuovo colpo di mercato e badate bene che non è un colpo qualsiasi perché il Parma Calcio ha ufficializzato l'acquisto di Lautaro! Lautaro ragazzi! Lautaro! No, non è Lautaro Martinez come magari qualcuno può pensare ma è comunque un giocatore molto molto forte. Lui è Lautaro Rodrigo Valenti, calciatore argentino dell'Anus acquistato a titolo definitivo o meglio, l'operazione è di prestito con obbligo di riscatto per la prossima stagione di 8 milioni di euro ma ha firmato un contratto fino al 2025 con il Parma. Arcigno, difensore veramente di stazza, oltre un metro e novanta, classe 99 e ha anche il vizietto del gol. È un giocatore molto interessante ragazzi, bisogna dirlo, e secondo me è stato acquistato addirittura per fare il titolare. È il tipico calciatore che ci si aspettava dal nuovo Parma targato Kraus, dal nuovo Parma di Carli. Veramente un direttore che sta molto attento agli acquisti di giovani calciatori che possono poi fruttare molto di più e questo acquisto ragazzi è un classico esempio. Credo, credo, non sto leggendo nulla a riguardo ma credo che sia così, non dovrebbe rientrare all'interno dello slot da extra comunitario perché dovrebbe avere il passaporto comunitario, il passaporto italiano. Dovrebbe essere così, però ovviamente se sto sbagliando ditemelo qua sotto nei commenti a riguardo. Giocatore veramente interessante, non vedo l'ora di vederlo all'opera. Tra l'altro Kraus ha spoilerato qualcosina e cioè che non sarà ovviamente Valenti l'unico acquisto di questa sessione di mercato ma di tutto il Parma in realtà avrebbe già ufficializzato altri due innesti. Non so sinceramente chi sono, anche perché è tutto ancora nell'ombra, però ovviamente qualche nome sta già circolando. Ma non voglio appunto provare a dire questi nomi in questo video, anche perché è un video che dovrebbe parlare solamente di Lautaro Valenti. Valenti che ha già scelto il numero 30, io credo che possa giocare effettivamente da titolare. Rubare il posto a Jacoponi o a Bruno Alves non è sicuramente semplice, anche perché sono due giocatori che insomma a Parma hanno fatto veramente tanto tanto bene, avessero fatto male, dici no, magari farebbe fatica. Però in realtà è un giocatore che se sei pronto a spendere 8 milioni di euro per acquistarlo, classe 99, quindi 21 anni, hai un contratto con lui fino al 2025, ci punti tanto e speri magari che possa un giorno valere molto, tanto da arrivare a una plusvalenza. Quindi è molto probabile che possa andare a sostituire uno tra Bruno Alves e Jacoponi in difesa. Molto più probabile Jacoponi forse, anche vista l'uscita tra pochissimo di Darmian verso l'Inter, che potrebbe essere ufficiale già dalla prossima settimana. Non lo so ragazzi, non lo so, vedremo a riguardo. Possiamo parlarne tranquillamente poi con i ragazzi di controcaccio, di Game Pass lunedì durante la live reaction appunto, che ci sarà lunedì alle ore 20.45, Game Pass Bologna-Parma. Non perdetevelo assolutamente ragazzi, sintonizzatevi lunedì sera, guardiamo insieme Bologna-Parma su YouTube, la guarderemo insieme e potremo ovviamente commentare sia la partita sia gli acquisti che il Parma sta ufficializzando in questi giorni. Io devo andare in questo momento a prepararmi perché domani è il grande giorno, seguitemi su Instagram perché domani è il grande giorno, ci si sposa, è arrivato anche per me questo giorno, ahimè, è arrivato anche per me. E quindi seguitemi su Instagram dove sto postando di tutto, quindi ne possiamo parlare con calma. Ditemi qua sotto se conoscete Rodrigo Valenti, Lautaro Rodrigo Valenti, cosa ne pensate di questo acquisto? Non so, sbizzarretevi voi, apriamo la solita area di discussione qua sotto. Grazie mille di aver visto questo video, un saluto, ciao a Pirus e Forza Parma. Secondo me questo è un acquisto veramente interessante.